Volontari bonificano la villa comunale di Torre del Greco. Quarta tappa del progetto messo in campo da AEC, associazione ecoculturale, creata da alcuni giovani torrisi. AEC è un'associazione no profit neonata, il cui scopo è quello di mandare un messaggio di sensibilizzazione, soprattutto alle nuove generazioni, sulle tematiche dell'ambiente e sulle tematiche ecologiche, mandando soprattutto un messaggio di poter capire che amare la propria città è un punto di partenza e che convoglia l'educazione civica e poi anche quella ambientale. L'associazione lo fa sia sul campo ripulendo e rivalorizzando i punti caldi, sia tramite social con informazioni di divulgazione scientifica. Lo scopo dei volontari è quello di agire attivamente per pulire zone della città troppo spesso abbandonate nel degrado e nello stesso tempo mostrarne l'importanza storica e culturale. Questo progetto, chiamato Cambiamola Noi, che portiamo avanti dal giugno dell'anno scorso, mira a mandare un messaggio di cambiamento e lo fa tramite la riqualificazione e la rivalorizzazione di quelli che sono sei punti caldi della nostra città, molto importanti sia culturalmente che storicamente. Dopo la passeggiata a Porto Scala, la stazione della Circonvesuviana e le Centro Fontane, domenica mattina i volontari si sono occupati della villa comunale Vincenzo Ciaravolo. Ovviamente, vista la chiusura, secondo le ultime normative anticontaggio, l'AEC non è intervenuta all'interno del parco, ma nella zona esterna. In particolare, l'area antistante è il cinema Corallo e la casa del combattente, fino alle scale. L'intera zona, come ben sanno i torresi, versa troppo spesso nell'abbandono più totale, tra rifiuti depositati indiscriminatamente, bottiglie di vetro, sporcizia lasciata dai tanti giovani che approfittano dei tanti spazi coperti ed isolati per fare qualunque cosa, specialmente in questo periodo, per eludere i controlli. Dalle 9 alle 13 del mattino, una ventina di volontari dell'AEC ha cercato di ripulire l'intera area. Dieci sacconi di spazzatura per raccogliere i resti dell'inciviltà. Fra i ritrovamenti più assurdi, uno scaldabagno ed un estintore. Preoccupa, invece, la presenza di numerose siringhe sporche. Prova che gli spazi più nascosti offrono riparo a chi fa uso di droghe pesanti. L'evento si è svolto nel pieno rispetto dell'enorme anticontagio. L'AEC ha distribuito guanti, mascherine, scope e tutto l'occorrente per l'operazione. Questa volta è stato allestito anche un gazebo informativo. I giovani volontari hanno potuto spiegare le loro missioni, i loro obiettivi e distribuire gadget ecosostenibili. Tanti torresi interessati che hanno potuto conoscere una nuova realtà in cui i giovani, in una soleggiata domenica mattina, si assumono la responsabilità di pulire ciò che altri sporcano. Il degrado che, chi dovrebbe intervenire, fa finta di non vedere.